Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un dramma tremendo ha colpito la comunità di Villongo, nel Bergamasco, dove una bambina di 6 anni, Ritage Lamar, ha perso la vita mentre giocava al parco di piazza Vittorio Veneto a San Filastro. La piccola stava giocando su un'altalena quando, intorno alle 21 e 15 di lunedì 2 settembre, è caduta e la giostra, continuando il suo movimento, l'ha colpita alla testa. La scena si è svolta sotto gli occhi della madre, che ha assistito impotente all'accaduto. Non appena è stato chiaro che la situazione era grave, le persone presenti al parco hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e un'automedica di Sarnico. I soccorritori hanno tentato con tutte le loro forze di rianimare la bambina, ma, viste le gravi condizioni, è stato necessario trasferirla d'urgenza con l'elisocorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, verso le 23 è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Ritage Lamar non ce l'ha fatta. La bambina, originaria del Marocco e residente a Credaro con la sua famiglia, avrebbe compiuto sette anni il prossimo ottobre. La sua scomparsa ha lasciato un profondo senso di tristezza e sgomento tra coloro che la conoscevano e nell'intera comunità locale. L'altalena in questione è stata posta sotto sequestro dalle autorità per permettere le necessarie indagini e chiarire la dinamica dell'accaduto.